Un'altra coppia smentita e cacciata dallo studio di Uomini e Donne Un'altra coppia smentita. Nel trono over di Uomini e Donne ecco un'altra coppia smentita. Si pensa che tra due persone ci sia una storia all'insaputa della redazione. Si tratta di Stefano e Simona. . Mentre lui continua a frequentare persone che poi puntualmente classifica come una semplice amicizia, Simona continua ad essere gelosa di lui. Non solo, la dama ha preso sempre le difese del cavaliere e questo ha destato molti dubbi. . Infatti, Stefano aveva trattato molto male Simona in studio, ma lei sembrava non curarsene e continuava a dichiarare un'interesse e un rapporto d'amicizia. . Gianni Sperti, Tina Cipollari, Gemma e Barbara hanno accusato la coppia più volte di essere d'accordo e di mentire. Nei prossimi giorni, ne sapremo di più. . Galeotto fu l'audio. Se un'altra coppia viene smentita e cacciata dallo studio, è grazie ad un audio incriminante. . Nella registrazione del trono over avvenuta nei giorni scorsi, è spuntato un audio che sembra incastrarli definitivamente. . Il vicolo delle news ha anticipato che Massimiliano ha portato in studio un audio di Simona che confermerebbe una storia tra lei e Stefano e la volontà di mantenere il tutto nascosto. Tuttavia, andando avanti la dama non è riuscita a mantenere l'accordo. . Stefano e Simona non erano presenti in studio. Maria De Filippi decinerà di mandare in onda quanto ha preso su di loro? Quale sarà l'opinione dei presenti? Ci sarà una replica da parte dei diretti interessati? Presto scopriremo tutti i nuovi altarini innescati in trasmissione. . Ottimi ascolti. Ad uomini e donne unaltra coppia viene smentita e cacciata dallo studio. . La cosa più eclatante è che il pubblico, ormai da anni, segue con grande passione tutte le vicende del trono over. . Gli ascolti premiano con grandi risultati Maria De Filippi ed il suo entourage, sempre serio e ricco di professionalità. . .